Tantissime persone all'Angelus, tantissime persone all'ultima udienza del mercoledì. Ecco, in queste circostanze il Papa, con molta serenità, dobbiamo dirlo, con molta fermezza, ha avuto parole molto esplicite su quella che è stata questa sua scelta, indubbiamente sofferta, ma estremamente consapevole, meditata e persino razionale. Eh sì, ma è una razionalità guidata da un aspetto soprannaturale. Cioè, in questi giorni si legge di tutto nei giornali, commenti, interpretazioni, quadri più o meno foschi che sarebbero dietro alla decisione del Papa. Mentre lui ha sempre ribadito due concetti che sono fondamentali e che sono la chiave interpretativa di questo evento. Sicuramente l'evento, nella sua portata sulla Chiesa, la potranno leggere i nostri... Però i niposi, se basterà. Esatto, perché sarà veramente una lettura che ha necessità di essere sedimentata, poi vedere i risvolti anche che avrà. Ma il Papa ha due concetti, li ha espressi sempre con una forza e appunto, dicevo, non possono essere usati criteri sociologici o altre metodologie per leggere questo evento, ma è necessario, come ha fatto lui, far puntare lo sguardo in alto. Cioè, lui ha detto due cose essenzialmente. Faccio questo passo per il bene della Chiesa, quindi il bene della Chiesa che precede sempre la nostra posizione, il nostro ruolo. E poi questa cosa l'ho fatta dopo che mi sono veramente confrontato con la mia coscienza, il Signore mi chiama a servirlo in un altro modo. Quindi quasi che sia stato un comando che il Signore gli ha dato, così come gli ha chiesto di traghettare la Chiesa in questo momento storico, ora gli chiedi di servirlo in un altro modo.